Buongiorno ragazzi, oggi vediamo come installare e utilizzare CodeBlocks che è un IDE per scrivere programmi C ovviamente non è l'unico IDE ma questo è gratuito, è open source e a quanto pare è adottato anche al Politecnico di Torino quindi se doveste poi proseguire in una delle facoltà del Politecnico potreste trovarvi la stessa interfaccia quindi insomma se siete avvantaggiati ovviamente non è l'unico IDE gratuito si può eventualmente anche scaricare DevC++ che è anche questo un IDE gratuito nei nostri laboratori sono installati entrambi anche se noi utilizzeremo prevalentemente questo andando in www.codeblocks.org si accede al sito e andando in download si scarica il programma una volta scaricato una volta scaricato, in questo mio caso questo qui si avvia l'installazione e finita l'installazione si può lanciare il programma io l'ho già installato quindi non rifaccio l'installazione l'icona sarà questa, code block con quest'icona qui lanciando il programma parte l'applicazione eccola qua, questa forse è un po' vecchia c'è una versione nuova ma comunque l'interfaccia non è cambiata si presenta in questo modo qui ovviamente abbiamo una barra dei menu con tutti i principali comandi abbiamo questa interfaccia che diciamo ha i comandi principali subito pronti qui se andando in file posso fare new e posso fare un file vuoto delle classi per la programmazione C++ ovviamente dei file o creare dei progetti la cosa più semplice è creare un progetto noi useremo il linguaggio C quindi facciamo crea new project qui ci sono tutti i progetti che posso creare nel nostro caso noi lavoreremo solo col C e quindi faremo applicazioni console quindi selezioniamo applicazioni console facciamo go a questo punto abbiamo la scelta fra il C e il C++ nel nostro caso selezioniamo il linguaggio C next qui devo dare un nome al progetto per esempio chiamiamolo salve mondo salve mondo poi bisogna andare a selezionare dove salvare il nostro progetto allora qui mi si aprono tutte le cartelle io consiglio di salvarlo o in documenti o creare una cartella apposta linguaggi e poi una cartella apposta chiamata code block project e mettere lì tutti i progetti che fate io l'ho già creata quindi io avrò nel mio caso salverà in una cartella che si chiama linguaggi C code block project tutti i progetti che faccio il progetto si chiama salve mondo e lui creerà una cartella chiamata proprio così queste sono informazioni sul debug in genere qui non c'è da cambiare niente basta fare finish ecco qua come si presenta il progetto si presenta così salve mondo qui abbiamo il nostro il nostro progetto e qui abbiamo il sorgente il sorgente lo si chiama main C tutti i sorgenti li chiama main però voi capite che se io vado a vedere nella cartella nella cartella dove c'è il mio progetto dove siamo linguaggi C code block project mi ha creato vedete la cartella salve mondo cosa c'è dentro questa cartella c'è salve mondo cpb che è un file che serve a code block per la sua configurazione e poi ci sarà il mio programmino in C però lui tutte le volte li chiama main invece bisognerebbe dare dei nomi perché poi questo diventerà ci sarà l'eseguibile che avrà lo stesso nome .exe però poi se io do 50 eseguibili se si chiamano tutti i main non li distingo uno dall'altro quindi conviene dare un nome diverso come si fa a dare il nome diverso semplicemente pulsante destro avete visto che aprendo la finestra non c'è il rinomina quindi bisogna in realtà chiudere il sorgente deve essere chiuso e allora poi è possibile rinominarlo quindi rinominiamo il file anziché main lo chiamiamo con molta fantasia salve mondo allora bisogna ricordarsi che non si possono mettere caratteri strani bisogna scrivere tutto attaccato si può anche scrivere tutto maiuscolo ma non lasciare spazi quindi salve mondo punto c diamo l'ok a questo punto lo ha rinominato quindi se vado a rivedere nella cartella di prima ecco qua adesso si chiama salve mondo punto c facendo doppio clic abbiamo il nostro programmino già bello che è scritto allora a questo punto innanzitutto il programma mette già a disposizione lo standard io.h che è la libreria standard del C dove ho praticamente ad esempio la funzione printf che è la funzione che stampa video qualche cosa e mi mette anche la standard lib che è un'altra libreria del C standard queste in verde cancelletto include si chiamano direttive del compilatore e indicano al compilatore che quando compilerà il programma dovrà caricare queste librerie per poter compilare in maniera corretta il programma perché dentro le librerie ci sono praticamente come si fa a costruire la funzione printf nel nostro caso poi abbiamo il programma principale vedete il programma principale è una funzione una funzione main che è obbligatoria tutti i programmi C hanno una funzione main dove comincerà il nostro programma quindi quando verrà mandato in esecuzione lui eseguirà questa funzione questa funzione non ha nessun parametro cioè non passa nulla al programma chiamante quindi al main ma restituisce qualche cosa infatti è di tipo int cosa restituisce? nel nostro caso return 0 cioè questa restituzione dirà poi al sistema operativo che il programma è terminato e quindi il sistema operativo riprenderà il controllo diciamo della macchina dopo l'esecuzione del programma allora nel nostro caso vogliamo che anziché stampare questa è una funzione predefinita del linguaggio printf aperta a tonda chiusa a tonda la funzione tutti i programmi C finiscono tutte le istruzioni C finiscono col punte virgola tra virgolette è quello che dovrà comparire al video allora anziché hello world che vuol dire salve il mondo in inglese lo scrivo in italiano salve mondo ok adesso a questo punto cliccando qua sopra sul dischetto è possibile salvare il programma quindi adesso abbiamo salvato il nostro programma salve mondo a questo punto possiamo fare diverse cose allora abbiamo qui cliccando su questo simbolo della rotellina fa il building cioè la compilazione il building fa l'unione in realtà la costruzione del programma il run lo manda in esecuzione ma esegue solo il programma compilato questo fa tutti e due fa il build e il run quindi per mandare in esecuzione questo qui non ricompila quindi se io mando in esecuzione un programma già compilato e poi lo modifico se clicco di nuovo qui vedo l'esecuzione di quello precedente non quello nuovo perché una volta che lo modifico lo devo anche ricompilare diciamo che se clicco qui sono a posto ricompila il programma e lo mando in esecuzione vediamo l'effetto del programma eccolo qua qui viene mandato in esecuzione comprare la scritta salve mondo che è l'unica istruzione del linguaggio e poi comprare questa cosa processo return 0 quanto tempo impiegate a eseguirlo e poi premio un tasto per continuare questa cosa qua che si vede qui è una cosa di code block che per fortuna che c'è perché se io non mettessi qualche cosa il programma diciamo non riuscirei a vedere la scritta salve mondo perché mi si apre la finestra poi il programma termina e la finestra si chiude e io praticamente non vedrei niente code block in automatico mi tiene aperta la finestra e mi dice che se la voglio chiudere basta che premio un tasto qualunque premio un tasto qualunque e la finestra si chiude andiamo a vedere cosa è successo nella mia cartella salve mondo nella mia cartella salve mondo una volta che l'ho mandata in esecuzione sono comparse due nuove cortelle una si chiama obj e qui c'è poi una sottocartella debug e qui vedete c'è il punto O cos'è il punto O? è il file oggetto quindi alla prima fase del compilatore prende il solgente e lo trasforma in un file di tipo oggetto se andassimo a vedere più o meno cosa c'è qui dentro vediamo se si vede ecco c'è tutta questa roba qui insomma non si capisce un granché è praticamente inleggibile proprio perché è un file oggetto dopodiché crea anche una seconda cartella che la chiama bin nella cartella bin c'è sempre una cartella debug e dentro la cartella debug c'è il nostro eseguibile salve mondo quindi in realtà se volessimo andare in esecuzione al programma da qui posso farlo faccio doppio clic però guardate cosa succede non vado a praticamente niente non è che lo eseguo in realtà lo sta eseguendo è solo che così veloce apre la finestra e la richiude vedete? non so se si è visto si è aperta la finestra e la richiuse questo perché? perché se io lo eseguo da qui questo posso fare anche solo il RAM perché è già compilato code block mi blocca lui la finestra mettendo questa roba qua in realtà nell'eseguibile io non vedo niente se voglio bloccare la finestra devo aggiungere un'istruzione nell'eseguibile in questo caso che funziona anche se non lo uso da code block l'istruzione se non ricordo male si chiama system system aperte virgolette pausa vediamo se questa qua se funziona allora ricompiliamo perché abbiamo salvato ah una cosa da dire quando si compila dovrebbe se non ricordo male fare il salvataggio in automatico ok pausa non gli è piaciuto non ricordo come mandi interno esterno non programma nessun file batch non gli è piaciuto pausa vediamo però se invece qui l'ha preso no non l'ha presa neanche qui quindi non è il comando non è questo adesso vediamo comunque si l'errore sta qua perché ho scritto pausa invece pause vediamo se adesso è vera la cosa salviamo ricompiliamo il tutto ok vedete adesso è comperso premiamo un tasto per continuare che è il messaggio che dipende da quello che ho messo io perché poi compare il nuovo messaggio che di code block qual è la differenza? che questo qui fa parte del programma questo è una cosa che mette l'IDE quindi se io lo eseguo al di fuori dell'IDE questa roba non c'è e quindi lui scrive salve mondo ma poi chiude la finestra non vedo niente se metto questo comando system pause allora anche se lancio l'eseguibile adesso qui usciamo da qua vado a prendere il mio eseguibile dove siamo? eravamo in salve mondo bin debug debug eccolo qua adesso mando in funzione l'eseguibile adesso funziona vedete premiamo un tasto per continuare e posso vedere il mio risultato benissimo a questo punto il nostro programma è terminato io posso chiudere l'IDE anzi no posso semplicemente chiudere il progetto faccio il pulsante destro close project voglio salvare i cambi dico di sì e ho chiuso il mio progetto se lo voglio vabbè se chiudo il programma e lo riapro e voglio riaprire il progetto che ho fatto prima faccio open apri un progetto esistente ovviamente devo andarmi a cercare la cartella adesso qui lui si è già posizionato qui dentro nel mio caso è salve mondo devo entrare dentro la cartella perché gli devo dare in pasto questo file cioè se voglio aprire il progetto devo dargli il file cbp faccio apri ok mi è ritornato il progetto già con la scheda aperta e così via bene direi che per questa lezione è tutto ovviamente ci sono ancora tante cose da vedere ma abbiamo visto un primo approccio all'utilizzo di codeblog alla prossima puntata ok 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 ok